Il 25 aprile ricorda la liberazione dall'oppressione nazifascista nel 1945. È vero, gli italiani con l'indispensabile sostegno degli alleati anglo-americani divennero improvvisamente liberi. Ma davvero? È andata proprio così? Sì? Veramente siamo diventati liberi? Certo, formalmente sì, siamo diventati democratici. Possiamo esprimerci come ci pare. Non proprio del tutto, ma rispetto a prima certamente molto di più. Ma ci siamo anche liberati da poteri oppressivi? Possiamo solamente parlare, ma una parte di quello di cui parliamo liberamente in fondo non ha risultati. O tutto quello di cui potremmo parlare liberamente non ha risultati se qualcuno non vuole. Vediamo. Diciamolo francamente. Quei giorni segnarono solamente il passaggio da un potere ad un altro, fortissimo, ben strutturato, sopra di noi. Come sempre, finora nella storia. La guerra di liberazione anglo-americana fu, in effetti, la conquista da parte loro di una grande zona di pesanti influenze e dominio in Italia e in Europa, e non solo. E per giunta, soprattutto in Italia, c'era una costante importante nel potere, una costante che straordinariamente, ma guarda un po', non era cambiata. Qual è questa componente costante così importante da non essere travolta dalla guerra e dai cambi di poteri così radicali? Ebbene, il Vaticano. La curia romana. Quella curia che è erede della vecchia curia imperiale degli antichi romani. Un potere bimillenario. Quella curia che era stata di supporto ed alleata dei regimi fascista e nazista, o era tranquillamente passata ad essere di supporto ed alleata del potere atlantista anglo-americano. Importante prima nell'esercizio del potere in Italia, importantissima anche dopo, anche ora. Quindi possiamo dircelo. Non ci hanno liberati. Non ci siamo liberati. Abbiamo solo, e solo parzialmente, cambiato padrone. E se ci riflettiamo bene, sia il potere nazifascista, che è quello anglo-americano, che è quello sovietico, molto importante in Italia per qualche decennio attraverso il Partito Comunista, facevano parte dello stesso gioco anticoscienza. Tutti. In effetti erano stati creati dagli stessi superiori poteri spirituali ed umani anticoscienza e quindi facevano il gioco della guerra fredda, poi del terrorismo, della minaccia della guerra atomica, della strategia dell'attenzione, solo per cercare di impedire, con odi contrapposti, con la paura e la violenza, di impedire lo sviluppo iniziale ed autentico di coscienze umane più libere e disposte al bene. Uno sviluppo previsto ampiamente dalle correnti spirituali bianche proprio per gli anni a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, dagli anni 70-80, ma proprio perché le coscienze umane ed anche quelle italiane, proprio come reazione alle guerre, alle stragi della prima metà del secolo scorso, perpetrate da nazisti, fascisti e stalinisti, si erano finalmente risvegliate ad una maggiore voglia di bene, proprio per questo, avendo di fronte gente più sveglia, dalle dittature occorreva passare ad un sistema più raffinato di controllo, che almeno apparentemente andasse incontro a queste coscienze in risveglio, ed il sistema a rientrodurre le democrazie, anzi meglio, la manipolazione delle democrazie, fare credere alle gente di essere libera di scegliere i propri governi e di istituzioni attraverso il teatrino della democrazia, sempre saldamente e comunque controllato dai poteri oscuri superiori. E chi erano in quei tempi, a quel tempo, i più bravi a fare le democrazie, ad alterare o usare le democrazie, chi erano i più esperti a fare finta di essere democratici? Certamente gli angloamericani, guidati da massonerie sempre più scure e sempre più figli di poteri spirituali, anti-umani, con un grande ruolo giocato anche da certe correnti della Chiesa Cattolica. Qui, dopo la cosiddetta liberazione del 1945, arrivano dei padroni più raffinati, più sottili di quelli precedenti, un po' beceri, evidentemente dittatoriali, anche ridicoli, per certi versi drammaticamente, tragicamente ridicoli e antilibertari, che non erano più accettabili da popolazioni che avevano sofferto, che li avevano visti in faccia, quindi popolazioni inizialmente risvegliate dallo scatenamento del male dei trent'anni precedenti. E quindi, da quel 25 aprile, un po' alla volta, potemmo dirci, certamente liberi di esprimerci quasi completamente, di fondare i movimenti politici, i partiti, di intraprendere, ma poi noi popoli, in effetti, contavamo veramente qualcosa. Eravamo veramente noi a guidare la società verso il bene, verso il rispetto dei diritti, verso una rete sociale d'amore e supporto reciproco nella vita? Una rete che alimentasse la maturazione delle inigualità e delle coscienze della stessa rete? No. Non eravamo noi. Proprio no. Non l'eravamo allora, non lo siamo stati dopo e non lo siamo certamente adesso. I poteri oscuri non hanno mai mollato il controllo delle nostre istituzioni e quindi siamo rimasti chiusi nella stessa gabbia, ma cosbarre, solo apparentemente diverse. Che cosa, quel tanto di buono che è stato fatto e che sempre meno viene fatto, perché è stato fatto per venire incontro ai diritti? E perché bisognava tenere buone le coscienze. Perché le coscienze volevano il bene ed erano più di prima e quindi un po' bisognava dargli. Da una parte erano contentini, diciamo, cibo per ingeni, ma da un'altra parte, e così funziona la storia, i poteri oscuri per mantenere il potere erano costretti a concedere alle coscienze anche cose buone. Ma l'arma fondamentale per addormentare le masse, soprattutto da parte delle massonerie statunitensi, è stata il consumismo. Valigie e valigie di soldi ai partiti, agli imprenditori, porte aperte alle multinazionali, centinaia di miliardi stampati per costruire per noi, in un paio di decenni, una società che da povera, poverissima, diventava fatta da individui che potevano permettersi tanti beni di consumo, auto, cibi, vacanze, case, elettrodomestici. Questa abbuffata di consumi ha esaltato il denaro e i beni materiali e sensoriali come scopo della vita, portando in secondo piano e annientando i beni spirituali, etici, morali del buon vivere, dell'ecritica civile, del senso del dovere, dell'amore reciproco, dello stesso rapporto col mondo spirituale. Questa pesantissima onda consumistica ha reso fortemente migliore la vita dei nostri corpi e delle nostre parti più basse dell'anima ed ha depravato, addormentandole, le nostre coscienze ed il nostro spirito. Sotto la pesante coltre ipnotica di questo generale addormentamento, i poteri oscuri hanno lavorato a crisi successive, ad emergenze, a minacce di guerre nucleari, a crisi economiche, pandemie, riscaldamenti climatici di supposta origine umana, a vortici di violenza in Italia e nel mondo, perché noi, atterriti dalla possibilità di perdere il benessere apparente derivante dall'ipnosi materialista, consumista e sensoriale, fossimo disposti a qualsiasi cosa, a qualsiasi forma di potere, di perdita di importanza politica, del popolo, di perdita di sovranità, fossimo disposti come pecore impaurite a seguire i nuovi cattivi pastori dello strisciante mondialismo anti-umano per non perdere il nostro tranquillo benessere e fossimo talmente addormentati da farci schiavizzare ogni giorno di più in tutte le nostre dimensioni umane. politici, imprenditori, giornalisti, intellettuali, medici e scienziati veramente amanti del bene della gente e della verità c'erano, anche se in minoranza, ma importanti per il loro esempio e la loro azione e comunque per il loro seguito, ma uno ad uno sono stati messi in ombre, dimenticati, ostracizzati o uccisi dal nuovo regime. Bombe, omicidi, scandali, strategie della tensione. Ed è stato sempre più facile organizzare indisturbati vortici di violenza, di odi reciproci, di ansie, rabbia e paure che frenano o tentano fortemente di bloccare la crescita delle coscienze. E i poteri anticoscienza l'hanno fatto organizzando tutti i loro burattini finanziari, massoni, coriali, religiosi, politici, burocrati, intellettuali, scientifici, facendo organizzare a loro e tra loro guerre, campagne antiumane, pandemie, prodotti farmaceutici ed alimentari antiumani, invasioni della terra e dell'aria e dei nostri corpi con la chimica, con i campi elettromagnetici, aggredendo in tutti i modi i nostri corpi e le nostre anie. E questo perché? Questo proprio perché sempre di più sono gli spiriti umani che si sono accorti di non essere affatto stati veramente liberati quel giorno del 1945. Ma vedono sempre meglio le sbarre delle gabbie che hanno intorno. Ma vedono meglio anche le vie di uscita da questa schiavitù dei nostri corpi, della nostra vitalità, dei nostri pensieri, delle nostre. anime. Con gli alibi di guerre, pandemie, crisi economiche e climatiche da loro create, i sciacalli dei poteri mondialisti hanno divorato e continuano a voler divorare le nostre libertà. Se le crisi, i nuovi impulsi culturali scientifici generalizzati, le nuove parole d'ordine usate dai nuovi nazisti dei poteri mondialisti servono a controllarci meglio per imporci più facilmente farmaci, vaccini, campi elettromagnetici, un ulteriore indebolimento dei nostri sistemi immunitari e della nostra psiche, una cultura devastante, anti-umana, forme d'arte orribili, confusione in quello che è un essere umano, per renderci sempre più simili a degli automi facilmente manipolabili, sempre più meccanizzati, sempre più elettrificati. Nei discorsi sui media nel giorno della liberazione cosa sentiamo? Sentiamo parlare quasi solamente falsi resistenti che non resistono affatto a questa aggressione. Fantasmi al servizio del potere, ipocriti in giacca e cravatta rivestiti di cariche importanti in nome di un popolo che in maggioranza si fa ancora prendere in giro da antichissimi poteri nascosti dietro nuove facce di bronzo. I governi e le alte cariche nazionali e internazionali sono da quegli anni della liberazione sempre più nelle mani dei poteri di un vero e proprio quarto Reich mondiale falsamente democratico. Oggi questi burattini di potere oscuri occupano i media per fare vomitevoli discorsi che abusano in modo strumentale e ipocrita dei grandi temi della libertà e perfino dei valori della resistenza, dei polcri imbiancati. C'è chissà cosa veramente passa nel vostro cuore e un giorno vi presenterà l'amaro conto della vostra egoistica e profonda ignoranza civile e spirituale. A noi non spetta, non spetta a noi presentarvi il conto. Quello è un fatto interiore che il futuro non casualmente e certamente vi porterà incontro ma certamente a noi il dovere di difendere la verità e di valori di libertà, amore, armonia sociale, rispetto della dignità e delle evoluzioni di tutti, amore per Madre Terra e per tutte le sue creature. Ma per poter fare questo dobbiamo prima liberarci dai quei condizionamenti interiori che voi sepolcri imbiancati sfruttate abilmente per soggiocarci. Poi saremo liberi interiormente e più difficile diventerà per voi la manipolazione fino a diventare impossibile. A noi spetta il compito non facile di liberare noi stessi dall'egoismo, dall'ignoranza, dalle mancanze d'amore e di verità per essere veramente in grado di portare pensieri, sentimenti e soprattutto azioni nuove, buone e liberatrici nel mondo. Se non ci libereremo veramente dei nostri interiori mostri, del sonno della coscienza, dell'acquiescenza passiva, del gretto egoismo, non potremo mai liberarci dei mostri esterni e degli ipocriti burattini dei poteri antievolutivi che da sempre sfruttano proprio le nostre catene interiori per dominarci. Smettiamo di prendere sul serio quello che dicono attraverso i media, smettiamo di prendere le parti ora dell'uno ora dell'altro dei partiti, dei governi, delle organizzazioni internazionali, sono tutti servi dello stesso potere di manipolazione delle nostre coscienze e quello che fanno è per colpire le nostre anime e tenerle sottoposte ancora al loro potere. Guardiamo quello che ci trasmetto in i media senza mai dimenticare che la verità viene sempre mischiata a qualcosa che vuole passivizzare, impaurire, alterare in qualche modo le nostre anime per renderle malleabili alla manipolazione. Togliamogli qualsiasi fiducia, cerchiamo ogni volta di capire cosa c'è sotto le loro parole. Dov'è la distorsione della verità? E un po' alla volta ce ne renderemo conto benissimo, da soli. Confidiamo che le ulteriori compressioni della libertà compiute contro di noi attraverso questa crisi e queste crisi spingano tante persone in più ad una nuova resistenza, ad un nuovo risorgimento pacifico nelle azioni di tutti i giorni, ma fortissimo nell'impulso ideale al bene, pacifico, ma fortissimo moralmente ed in quanto tale irrefrenabile da qualsiasi potere. Perché? Perché sostenuto dal cielo e dal nostro spirito. Liberiamoci dai condizionamenti interiori e scioglieremo anche quelli esterni. Abbiamo le forze per farlo. Corancio. Viva la libertà. Viva la libertà.